Il verbo di Dio Nella fortezza dei martiri, nella grandezza dei confessori, nella sapienza dei dottori, nella purezza delle vergini, nella grandezza delle condemnazioni dei solitari e tutta potenza di Dio, dello Spirito Santo, dell'infinito amore che penetra le creature. Ecco la dispersione dei superbi nei pensieri del loro cuore perché la sapienza umana e le cose umane di fronte a questa sapienza soprannaturale divina è poltiglia, è poltiglia, è poltiglia, è nullità, è sterco per datemi l'espressione. Ma ci sono gli esurienti, gli affamati che desiderano il pane della vita ed ecco Gesù tu l'hai dato il pane della vita a te stesso e l'hai dato in esuberanza. Perché? Perché ti sei donato nella Santissima Eucaristia, ti sei donato a noi Gesù, a noi Gesù, all'umanità. E tu sei il sommo bene e li raccogli tutti. I poveri ricchi sono lasciati nella loro miseria estrema che per essi rappresenta una ricchezza a me, una ricchezza di morte, ricchezza di pudredine, ricchezza di rovina, ricchezza di rovina, ricchezza di rovina. Noi abbiamo Gesù, te nel cuore e sei la nostra ricchezza, noi abbiamo Gesù, te sulla lingua e sei la nostra ricchezza, noi abbiamo te o Gesù vita nostra e sei la nostra ricchezza. E chi ti ha donato a noi esurienti in pleviti bonus, chi ha riempito gli esurienti di bene? Tu Maria, tu Maria, perché tu hai dato Gesù, perché tu ci hai donato Gesù, perché tu ci hai custodito Gesù, perché tu ci hai chiamati a te come figlioli e ci hai alimentati allo stesso petto tuo, quel petto immacolato che ha alimentato Gesù. E siccome nel petto tuo ci trasfondeva la vita stessa di Gesù, tu ci hai alimentato della vita di Gesù, possiamo dire che l'evolistia è stata come la stilla del tuo latte immacolato che è venuta in noi. E allora figlioli miei cari, io devo congiudere per forza, e vorrei congiudere ancora una volta piangendo. O Maria, o Maria, io ti supplico rinnovare nelle anime e in queste anime la devozione a te, l'amore a te, io ti supplico Maria. Pura Maria devi trionfare, lo hai promesso a Lourdes, lo hai promesso a Fatima, lo hai promesso a Parigi, lo hai promesso a Roma, lo hai promesso a lei Maria, perché la tua voce si è fatta sentire a noi, attraverso tutte le manifestazioni della tua misericordia, della tua potenza, dei tuoi miracoli. Per questo, Vergine Immacolata, io ti offro tutte queste anime, ti do l'anima mia, ti do il mondo, ti do gli stenerati, i peccatori, perché non le apostrofo così, per schiacciarli, ma le apostrofo perché abbiano da te la vita, perché tu schiacci in loro l'errore, perché tu risani in loro le anime, perché tu li riabbracci, Maria, come hai abbracciato sul Calvario tutti gli uomini, e perché tu sei, sì, la mamma nostra, la mamma universale. Viva Maria, viva Maria, il Dio vi benedica. Maria, non lo sentite voi nel cuore, questo gran nome, che è un cielo, è più del cielo, è un riflesso dell'eternità, è un riflesso dell'adorabile Trinità, il più grande riflesso che mai si sia visto sopra di questa terra, Maria, Maria, Maria. E io reggo in te, Vergine del Sistema, una luce immensa, nella quale mi smarrisco, ma per la quale anche mi oriento, perché? Perché la tua luce, Maria, risplende dal principio principio del mondo fino alla consumazione dei secoli, e tu sei la creatura nella quale il Signore ha voluto manifestare tutta la sua grandezza, tutta la sua bellezza, tutto il suo amore. Ha voluto manifestare tutta la sua grandezza, ha voluto manifestare la sua sapienza, ha voluto manifestare il suo amore, ed è questa la prima riflessione che ci deve raccogliere, figlioli carissimi, sulla grandezza immaginata di Maria. Ricordatevi nei cieli e guardate l'immensità dei cieli, figlioli miei, che cosa vedete? Un fenomeno grande. La povera scienza, questa piccola cosa umana, che presume di essere tanto, tanto grande, la povera scienza ci si è smarrita, ma ha potuto appena, appena, appena intravedere qualche cosa di quella magnificenza. Ed ecco che nei cieli noi vediamo le nebulose, possiamo dire le generatrici degli astri, e poi vediamo gli astri nella loro incandescenza, possiamo dire gli astri nell'ordine della providenza di Dio, e poi vediamo gli astri i quali sono condensati e danno abitatori, la terra, e possiamo dire l'applicazione dell'ordine di Dio, è come il primo anello di un ordine immenso, immenso, che noi non conosciamo e del quale non possiamo valutare tutta l'estensione. Le nebulose, diremmo quasi l'annunzio degli astri, abbiamo detto le generatrici degli astri. Ecco, guardate Maria, dal principio e prima di tutti i secoli io fui presente davanti a Lui. Egli mi guardò e mi stabilì termine fisso del suo eterno consiglio. Dunque Dio, nel creare l'universo, guardava questa creatura meravigliosa. E quali sono le nebulose, diremmo quasi, che hanno quasi annunziata la Vergine Immacolata? Ecco la storia lontana e noi vediamo come la nebulosa, la quale non può avere per noi consistenza e non possiamo discernerla nella sua formazione, noi vediamo in questa storia passata l'ombra sua e come la nebulosa che l'annunzia. Se ne potrebbero citare moltissime di queste nebulose, tutte le figure bibliche sono tutte quasi le nebulose di Maria, diremmo. Che cosa meravigliosa, Vergine Santa, vederti, meredem, in quella povera donna, la quale è caduta nel peccato, ma porta in te la promessa tua. Orrò in amicizie tra te e la donna, tra il seme tuo e il seme di lei. Ecco Eva, la quale è diventata come una nebulosa, diremmo quasi nell'annunzio della tua realtà, perché Eva era la peccatrice, ma Eva era la prima donna e tu dovevi essere la seconda donna del genere umano. Eva era la prima madre e tu dovevi essere la seconda madre. Eva era la madre dei peccatori e delle peccatrici e tu dovevi essere la mamma. Dei giusti ritenerati alla grazia per la redenzione. Della donna che aveva fatto amicizia con Satana, dava luogo dunque all'annunzio della donna che doveva schiacciare la testa di Satana e quindi dava luogo all'annunzio di Maria. Come le nebulose passano nel cielo e sono nella loro traiettoria meravigliose, meravigliose, così figlioli miei cari, possiamo dire Maria è passata nel cielo della storia. E fin dal principio del genere umano è apparso su questa luce grande, grande. E so ti schiaccerà il capo, la promessa di Dio. Percorriamo tutto l'Antico Testamento, non c'è tempo da poterlo percorrere determinatamente, ma noi vediamo in tutti gli annunci dell'Antico Testamento l'ombra è la figura dolcissima di Maria. Giuditta, la forte, riproduce e annuncia la sua fortezza prima che esso fosse. Esther, la mediatrice, riproduce ed esprime la sua meditazione. E così dite di tutte le donne dell'Antico Testamento, ognuno ha portato in sé qualche cosa della grandezza di Maria, ma non l'ha portata in sé come sua proprietà. Era la nebulosa che passava sul cielo della storia e che annunziava un astro che doveva condensarsi ed essere il massimo astro del firmamento. Ecco la grandezza di Dio in Maria e che tutto si concentra in lei e tutto deve concentrarsi in lei. E se l'Antica Storia l'ha annunciata, la realtà l'ha prospettata, e diremmo l'ha proiettata, è quello che è esibito dopo, dopo la redenzione, l'ha come santificata. In mezzo a noi è come fatta madre nostra per cui è tutta nostra. L'ombra, il disegno di Dio, la realtà applicata a noi. L'ombra che riflette la potenza di Dio, il disegno di Dio nella sua invidida sapienza, l'applicazione a noi, nel suo amore per noi che è misericordia. Ed ecco perché il Signore ha voluto dotare Maria della potenza più grande. essa è la ricchezza, la stupenda ricchezza di tutti gli anni di Dio. Maria è la sede della sapienza, è la luce la quale illumina la terra e impedisce a questo povero mondo di gettarsi nelle tenebre degli errori, è quella che schiaccia tutte le regie. È la madre delle misericordie e dell'amore, che riflessi meravigliosi dell'aderabile Trinità o Vergine Bella e come l'anima mia si sente prostrata dinanzi a te in una profonda, profondissima venerazione. Perché, perché, Vergine Bella, il cuore si sente tutto commosso al pensare che tu sei che ci dai Dio e ci fai capire Dio, che tu sei che ci fai intendere e tutta la profondità dei disegni di Dio, che tu sei, che ci dai l'abbraccio di Dio e che rappresenti la bondà di Dio e dire no, Dio fatto mamma in te, Dio fatto sapienza adattata a noi, a noi vargoli della terra, Dio fatto potenza e dato a noi. il secondo momento di questa immensa grandezza di Maria, la realtà storica. Ecco essa nasce e tutta la terra esulta, ma gli uomini non se ne accorgono di questa nascita, però se ne accorge bene il cielo e la terra e gli angeli di Dio i quali cantono al Signore le lodi perché è nata questa bambina meravigliosa, nasce ed è concepita immacolata. Ecco la realtà, essa ti schiaccerà il capo, vorrai nemicizie tra te e lei, tra te e la donna e la donna è proprio lei ed essa gli schiaccia il capo, nella sua concezione glielo ha schiacciato, nella sua nascita ha fatto sentire tutta la sua potenza, il demonio si è sentito come schiacciato anche in quel momento della nascita perché ha aperto gli occhi alla luce, essa che era già piena dello Spirito Santo, essa che era già piena di grazie, essa che già cantava nel seno materno le lodi di Dio ed è stata l'armonia più bella che sia originata sopra di questa povera umanità e di questa povera terra, Maria, Maria. Quando le posero il nome io credo che tutto il cielo insultò perché in tutto il cielo quel nome ebbe un significato tanto diverso dal nome che portarono tante altre donne che si chiamarono anche se Maria ma non erano Maria Immacolata ma non erano Maria debellatrice di Satana ma non erano Maria figliola di Dio eterno ma non erano Maria predestinata ad essere la madre di Dio ma non erano Maria predestinata ad essere la sposa dello Spirito Santo che cosa grande è la Vergine Immacolata o se il cuore nostro palpitasse per te Vergine bella e se noi capissimo veramente quello che sei e se la terra lo comprendesse non sarebbe quello che è perché perché tu daresti alla terra tutti i raggi della divina potenza che in te sono concentrati perché tu daresti alla terra tutte le luci della divina sapienza che sono in terra accolse perché tu daresti alla terra tutti gli offlussi del divino amore del quale il tuo cuore è ripieno e la terra non sarebbe più quella che è rovina stoltezza e odio la realtà di Maria è nella sua magnificenza e nella grandezza della sua divina modernità la magnificenza per la sua pienezza di grazie la modernità per il verbo di Dio che si fa carne in lei ecco l'angelo di Dio ci voleva un annunciatore celeste per poterci manifestare la grandezza di questa donna singolare che è la mamma nostra Maria è tutta prostrata nella sua umiltà e un angelo di Dio fulgente le si presenta in forma sensibile ovvero nello spirito io credo in forma sensibile tutto se lo fa credere nell'angelo il colloquio infatti che si stabilisce tra lei e l'angelo ha tutto il carattere di un colloquio tra due persone visibili che si vedono e che si parlano l'angelo si indina io ti saluto o piena di grazie il signore è con te tu sei il benedetto tra le donne e rimase in silenzio e Mario trepirò era la sua profonda umiltà che la faceva trepirare e non sapeva che cosa volesse significare quel saluto non tenere Maria perché hai trovato grazia presso Dio la stessa parola detta ad Abramo ha trovato grazia presso Dio la stessa parola detta a Noè anche prima di Abramo ha trovato grazia presso Dio la stessa parola detta a quelli i quali hanno avuto missioni particolarissime da Dio ha trovato grazia presso Dio ha trovato piena di grazie e dunque hai trovato tutta la grazia presso Dio e tutta la grazia presso Dio è nell'effusione della sua infinita carità che prima dei secoli aveva già stabilito nella sua eterna nei suoi eterni disegni l'ingarnazione del verbo suo e la salvezza dell'uomo che egli voleva creare e che gli sarebbe stato in grado nella caduta spavendosa che fece tu concederai un figliolo lo partorirai e gli porrai nome a Gesù concederai un figliolo potremmo dire una trinita di manifestazioni concederai partorirai gli porrai nome a Gesù concederai una potenza dunque si animerà la potenza di Dio partorirai dunque tu avrai la divina ed eterna sapienza e la darai alle luce e gli darai il corpo il corpo che gli vuol termiare Dio stesso la seconda persona della salabile trinità l'eterna e infinita sapienza di Dio gli porrai nome a Gesù nome di salvezza quindi nome di amore quindi manifestazione sublime sublime e solenne dell'amore di Dio verso dell'umanità e Maria domanda solo come può realizzarsi questo e l'angelo risponde lo spirito santo sopravverrà in te la virtù del altissimo ti adombrerà per questo quello che nascerà da te sarà chiamato il figliolo di Dio e allora Maria non disse altra parola che questa ecco la serva del Signore sia fatta di me secondo la tua parola e rimase in profonda adorazione davanti a Dio e la potenza di Dio l'infinito amore discese in lei vivificò il giorno vitale che in lei era nel vivificarlo la divina persona la seconda divina persona dell'adorabile Trinità terminò quel colpicciolo già all'inizio della sua promozione e te verbum caro fatto mesto e si dice il mistero ma si aprì il cuore di Maria ed ecco nel suo cuore una vampa d'amore straordinario che la portava in una vampa in mezzo di carità eccola correre con gran fretta per visitare la cugina Santa Elisabetta l'angelo gliel'aveva annunziato la tua cugina Elisabetta ha concepito prestandone la vecchiezza ed ecco che essa corre corre che cosa ti fa correre Maria la carità perché corri Maria per la carità dove vai Maria per santificare tu vai sul mondo di Ebron per santificare e ecco alla presenza della tua cugina l'incontro da due anime grandi ma la tua era immensamente grande grande e la tua cugina o Maria rimane stupefatta dunque in me tanto onore che la madre del mio signore venga a me perché ecco quando la voce del tuo saluto e si è ripercossa in me ho sentito il mio piccolo che è saltato di gioia nel mio seno e Maria che cosa dice l'anima mia glorifica il signore ecco la sua vita ed ecco la potenza di Dio in quest'anima la piccola criatura che diventa l'ode di Dio l'anima mia glorifica il signore perché Maria hai detto lo glorifica il signore perché portavi in te l'eterna gloria di Dio il verbo di Dio che glorifica il Dio e quindi era logico che il tuo cuore risonasse della lode di Dio l'anima mia glorifica il signore il verbo di Dio lo glorifica nell'eternità tu hai ricevuto il verbo di Dio lo glorifichi nel tempo tu lo hai ricevuto sopra di questa terra lo glorifichi nella terra tu lo hai ricevuto per darlo agli uomini e glorifichi Dio in nome di tutti gli uomini l'anima mia glorifica il signore quando è grande questa parola sempre bella e sempre nuova figlioli miei cari esulta il mio spirito in Dio mio salvatore esulta l'anima sua e che cosa è questa esultanza o Maria se non l'applauso di tutto il tuo essere vivificato completato arricchito divinizzato dalla presenza del verbo di Dio è l'esultanza dell'anima tua che è stata immacolata terra il verbo di Dio che in anticipo ti ha fatta pura 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 purissima e in previsione dei meriti soli e della sua passione ti ha arricchito di grazie è logico dunque che tu esulti nella magnificenza del Dio salvatore ma il Dio salvatore è tuo ed è tuo figliolo ma tu lo hai nel seno vivo gloria perenne e eterna di Dio e tu vivi della vita perché tu dai a quel corpo la tua vita e il sangue di lui è il sangue tuo e il sangue tuo circola in lui e siccome è determinato dalla persona divina il sangue che circola in lui è il sangue divino e quindi ricircola in te il sangue divino e tu partecipi alla vita divina per questo vuoi dire veramente e propriamente e l'anima mia glorifica il Signore che cosa grande sei tu Maria e io mi sento commosso o madre del Cissima e vorrei solo piangere e piangere e perché perché fedeli miei cari se noi dovessimo levare la voce in questo momento per fare ecco alla voce adorabile di Maria che cosa dovremmo dire dovremmo dire l'anima mia non ha glorificato il Signore l'anima mia ha ripreso il Signore col peccato l'anima mia ha offeso il Signore che è il peccato e il mio spirito ha esultato nelle cose pudrite di questo mondo e non ha esultato in colui che mi ha salvato e non ha portato in sé l'esultanza di questa salvezza ma ha regettato la salvezza e si è data la colpa che cosa ne dite che cosa ne dite miei cari date uno sguardo ai vostri peccati alle vostre manganze alle vostre impedeltà alle vostre ingreditudini e allora supplicate Maria che voglia abbracciarvi voglia farvi figli suoi voglia come mettervi nel suo seno benedetto per dire in lei noi poveri peccatori che abbiamo disonorato Dio l'anima mia glorifica il Signore e glorifica il Signore e per Maria e io capisco perché ogni atto della vita cristiana non può essere atto di vita cristiana se non basta per il cuore di Maria lo capisco benissimo perché se essa è la mamma nostra è colei che ci deve dare la vita e come essa ha data la vita al verbo di Dio nel suo seno deve ingentrarci nel suo seno materno farci pigli suoi e darci la sua vita perché la sua vita sia in noi glorificazione di Dio l'anima mia glorifica il Signore e sia esultanza nella sua redenzione perché questa esultanza la fa applicare a noi e ci fa essere irredenti di fatto e esulta il mio spirito in Dio e mio Salvatore o magnificenza meravigliosa di Dio in Maria Immacolata mamma nostra dolgissima il percorso della sua vita noi ne abbiamo una luce soltanto in cana di Galilea lì apparisse Maria Novellamente è stata sempre nascosta perché mio Signore l'avete nascosta nella sua vita terrena perché essa ha voluto essere nascosta è logico la sua lampada ardente di gloria di Dio era come quella pace che va sempre in alto in alto in alto e che si stacca per sempre dalla terra era come uno sprazzo di luce meraviglioso che rischiarava il povero cielo di questa terra e certo non poteva rischiarare la terra non poteva inabbissarsi nella terra non poteva farsi coprire di terra ecco il silenzio di Maria meravigliosa silenzio silenzio che riproduce in sé l'eterno divino silenzio di Dio chi può capire Dio silente dirò quasi nella sua infinita eternità perché Dio è atto purissimo ed è atto semplicissimo tutto in atto sempre presente che non ha né passato né futuro e per conseguenza è in un'arcana e adorabilissima pace l'eterno silente l'eterno verbo il quale parla ma la sua parola è l'ode di Dio in Dio l'eterno amore il quale si effonde ed è fiamma di Dio in Dio che cosa meravigliosa è come Dio che manifesta un raggio della sua potenza si trova in gara di Galilea in un banchetto manca il vino il vino che era il completamento della cerimonia annunziale e per conseguenza era un'esigenza dello stesso matrimonio per quei tempi e ci mancava il vino erano venuti gli apostoli stanchi probabilmente avevano essi come consumata della parte di vino che doveva servire poi per la funzione emoziale e la verità santa supplisce subito questa mancanza da Gesù e dice semplicemente non hanno vino e Gesù dice che cosa c'è di diverso tra me e te o donna cioè o signora questo significa donna nel significato ebraico o signora o regina quindi dà a Maria un titolo di onore che cosa c'è di diverso non è giunta l'ora mia e voleva dire tu hai la stessa potenza mia non è giunta l'ora mia ma l'ora tua è sempre giunta e di fatti poteva essere manifestare una potenza più grande che dà e la umanità il verbo di Dio fatto carne ci poteva essere il miracolo più bello e Maria capisce la parola di Gesù la capisce tanto che vuole esso stesso apprezzare il momento della sua manifestazione per gli apostoli che erano venuti di fatti l'Evangelo ci dice che dopo il miracolo gli apostoli credettero in lui dunque non credevano prima è logico e non credevano prima e avevano bisogno di quel miracolo e Maria lo volle affrettare perché lesse nel cuore degli apostoli tutta la loro manganza di fede e tutta la trepitazione delle anime loro e allora disse semplicemente ai servi fate quello che vi dirà conquistò diceva a lui dice ed opera e Gesù disse ed operò ma era la potenza di Maria è evidente che Gesù operò per Maria operò per Maria perché sentì la sua santa e moderna parola ma operò per Maria perché se non è raggiunta l'ora sua come poteva raggiungere ma l'ora di Maria è raggiunta e allora Gesù dirò così impirò la potenza la potenza di Maria e nella potenza di Maria operò il miracolo di Cana non l'operò nella sua potenza non è raggiunta dalla sua ma l'operò per Maria riempite le idrie di acqua e le idrie furono riempite erano l'immagine di Maria ripiena di grazie perché l'acqua è meraviglioso simbolo di grazia portatelo portatela a colui che è cura del vino era la parola imperatrice la quale ordinava quell'acqua a colui che aveva cura del vino e certamente non poteva avere cura dell'acqua e quindi l'acqua obbedì immediatamente ed era anche questa un'immagine meravigliosa di Maria perché Maria la ripiena di grazia fu portata a colui il quale doveva aver cura ed aveva cura delle sue creature perché era il Dio creatore questa pienezza di grazia fu data al verbo di Dio e il verbo di Dio si fece carne in lei e mutò lei in una creatura divina e lui in una creatura umana in lei di modo che egli si fece uomo mentre Maria diventò divinizzata lo diciamo propriamente e propriissimamente e a quei piccoli mozzarecchi moderni i quali trovano sempre da ridire quando si parla della grandezza di Maria i quali criticano San D'Alfonso per aver detto che adoro la regina io dico voi non intendete la parola profonda di un santo il quale ha guardato questa divinizzazione meravigliosa di questa creatura come ha guardato la umanizzazione meravigliosa del verbo di Dio e si è fusi in Maria in un amore estremamente grande e si è fusi in Gesù sacramentato in un amore estremamente confidente e l'acqua si è mutata in mino e l'allegrezza è tornata in quella casa l'anima mia glorifica il Signore Maria glorificato Gesù esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore lo spirito di Maria è esultato in Lui Salvatore che era presente ed è esultato perché la sua carità si è fusa per lei su quei poveretti quali mancavano di vino il segreto di tutta questa grandezza l'umiliazione di Maria due abissi ci sono l'abisso dell'infinito e l'abisso del nulla mi diceva un'anima buona di Genova la quale ebbe una comunicazione da un'anima santa passata l'altra vita Giuseppino Berrettoni che quando questa anima santa le disse tutte le cose della terra sapienza scienza onori ricchezza lettere arti dinanzi a Dio sono nulla nulla esso sentì come un gran vuoto un immenso vuoto e disse io ho capito come una parola può significare e può darci la vita di quel che dice di quello che esprime perché sentì questo immenso vuoto ma nel sentire questo immenso vuoto io sentivo l'immensità dell'infinità di Dio che colmava il vuoto ci troviamo precisamente di fronte a questo fenomeno meraviglioso l'infinità di Dio abisso di grandezza la creatura la quale si inabissa fino al punto da diventare il nulla nella sua umiltà ed è riempita tutta di Dio perché diceva quest'anima santa io ho visto quel nulla che si riempiva di Dio precisamente perché era il nulla il nulla ed ecco Maria la quale si è annendata indando umiltà ed è questa la misura della sua umiltà che è diventata come il nulla ha guardato l'umiltà della sua serva perché stanno mi chiameranno beata a tutte le generazioni ha guardato questa umiltà come l'hai guardata mio Dio eterno l'hai guardata col tuo sguardo di potenza e l'hai riempita della tua potenza l'hai guardato col tuo sguardo di sapienza e l'hai riempita del verbo di Dio e l'hai fatta madre del verbo di Dio l'hai guardato con lo sguardo del tuo infinito amore e l'hai assorbita in Dio così perché l'hai fatta tua sposa l'hai tu stessa significata e l'hai resa capace di essere la madre di Dio ma c'è una verza grandezza sugli oligari che ci mostra che ci mostra dolgissima mamma nostra ed è la grandezza del suo dolore la grandezza del calvario e se noi capissimo quel momento grandioso nel quale la Vergine Santa si è trovata sul calvario per prendere possesso di noi nella casetta di Nazareth è stata madre di Dio nel silenzio di quella casetta la presenza di un angelo il dolore del calvario è diventato la mamma nostra alla presenza degli sgorri degli esseri più ributtanti di questa povera terra alla presenza dei ladroni i quali erano progettissi col verbo di Dio alla presenza di tutti gli scelerati scrivi farisei e sacerdoti depravati dell'antica legge essa è stata dritta nel suo dolore sabbat mater dolorosa per ricevere la maternità che doveva farci i figli e i suoi una grandezza in quella parola Dio disse si è fatta la luce e la luce fu fatta una parola e l'onipotenza di Dio si manifestò e si glorifica nella creazione della luce una parola e una parola ha detto il verbo di Dio perché tutto fu fatto per il verbo di Dio e la maternità di Maria verso gli uomini doveva essere fatta anche stata il verbo di Dio e il verbo di Dio addolorato e il verbo di Dio fatto l'uomo e il verbo di Dio crocifisso e il verbo di Dio donato all'umanità donna signora ecco il tuo figlio era Giovanni ai piedi della croce era Giovanni ma era tutta l'umanità ai piedi della croce e quando Gesù ha detto alla Madonna ecco il tuo figlio tutta l'umanità si è trovata presente nel cuore di Maria come si è aperto il tuo cuore Maria come si è dilatato il tuo cuore Maria chi può misurare la carità tua che ha abbracciato tutti i secoli e tutte le creature e forse non solo le creature di questa povera terra non le creature di questa povera terra ma tutte le creature dell'universo perché perché Maria è la regina del cielo e della terra e non è la semplice regina del cielo e della terra per un significato sterile qualunque ma è la regina del cielo e della terra perché ha il dominio di tutto chi può misurare fin dove il Signore ha detto donna ecco il tuo figlio nessuno lo può misurare e si è voltato a Giovanni ed ha detto ecco la madre tua e Giovanni ha sentito la parola di Gesù ha provato il cuore e la tenerezza di questa maternità ma non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo e questa tenerezza di maternità non la poteva ancora approfondire l'ha approfondito dopo ed è diventato l'apostolo dell'amore non poteva non diventare l'apostolo dell'amore ha riposato sul cuore di Gesù e ha attinto da Gesù l'amore è stato infimelo primo di Maria rappresentante dell'umanità e è assicciato dal cuore di Maria quell'immenso amore per cui la Madonna ha glorificato il Signore l'anima mia glorifica il Signore che magnificat di amore hai detto tu sul Calvario Maria nel tuo dolore magnificat anima mea dominum che glorificazione hai dato a Dio o Maria mettendo nel tuo cuore tutti gli uomini sordi alle lodi di Dio e per essi cantando a Dio nel tuo dolore l'anima mia glorifica il Signore e tu hai abbracciato tutti i dolori della terra ripromettendo di dilenire tutti i dolori della terra perché nei miracoli della tua potenza immensa fosse glorificata la grandezza di Dio l'anima mia glorifica il Signore e allora o vergine bella che tu ci hai abbracciati che tu hai abbracciato me povero peccatore mamma mia dolcissima tu hai abbracciato me e non ti sei vergognato di me e non hai ricettato me e mi hai messo nel centro del tuo cuore e ti sei donata a me vergine bella in una ineffabile maniera d'amore perché sono sacerdote tuo e perché ho in me il carattere sacro del tuo figliolo e tu hai conciunte queste due maternità in una il sacerdozio e l'umanità nel cuore mio e mi hai abbracciato come il Cristo che ti si donava e come l'umanità peccatrice che ti si donava e che ti era affidata che cosa grande sei tua Maria per questo io non mi meraviglio o miei carissimi figlioli che la vergine santa ha cantato con un dono solenne fecit potentiam imbratio suo dispersit superbos mende gordis sui come sorge la luce e la luce dissipa le tenebre così assorta Maria e ha dissipati i consigli degli embi e i consigli dei peccatori dispersit superbos mende gordis sui così capisco come tutte le potenze della terra sono state deposte dinanzi a questa potenza e saranno deposte innanzi a questa potenza perché Maria vincerà all'inferno deposit potentes de sede e il primo embio potente è Satana deposit potentes de sede e i primi embio potenti sono gli eretici celerati e i peccatori e i critici celerati di questo secolo e i comunisti e gli celeratissimi comunisti che sono l'antitesi del Cristo divino e gli celeratissimi protestanti che sono gli avulsi del cuore di Maria e quindi gli avulsi dal seno materno e quindi non hanno più dirò quel cordone umbelegale perdonatemi l'espressione che li lega al cuore benedetto della mamma alla vita della mamma che è la mamma che ci è data il Cristo nel momento stesso nel quale moriva per noi è un insulto dire al Cristo ricetto la mamma quando tu mori per noi e guardo solo te che mori per noi ma il rie morto per noi e si è dato in Maria e in Maria ci è effusa si è effuso tutto quanto dunque Maria tu deponi potenti dalla sede questi falci potenti questi scelerati potenti esalti inumidi quelli che ti si abbandonano nell'umiltà quelli che in te glorificano Dio nella tua umiltà in quel nulla immenso e in quell'abisso di umiltà nel quale l'umanità si prostra e che tu hai colmato con Dio stesso l'anima mia glorifica il Signore le due andite il nulla dell'umiltà la grandezza della lode di Dio oh Maria oh Maria chi può capire questa magnificenza del tuo amore il cuore mio piance oh vergine bella perché io vorrei qui solo lacrimare e stillare lacrime su questi cari fedeli e fare che ogni lacrima fosse disinfettante disinfettante di quelle putride cose che sono nel cuore loro e vorrei che queste lacrime io le raccollessi e le unissi alle lacrime tue perché tu su questo calvario hai lacrimato Maria e lacrimando hai disinfettato questa povera umanità disinfettandola l'hai abbracciata nel tuo cuore abbracciandola nel tuo cuore l'hai immessa nel tuo seno benedetto l'hai fatta figlia tu l'hai fatta per conseguenza figliola e fratella fratelli tutti del Cristo hai dato a questa umanità agli uomini della terra questa fratellanza meravigliosa che noi non avremo mai meritati che non possiamo mai meritare che abbiamo meritato soltanto per te per cui Gesù ci ha chiamato fratelli e allora che cosa dobbiamo dire figlioli mei cari il tonco passa e se no sei dolente che passi esurentes in blevit bones a riempiti di beni gli affamati e gli affamati chi sono? sono quelli che deciderono il cibo del cielo possiamo dire è l'ultimo periodo di questa terra perché nel magnificato di Maria ci sono come le scale degradanti di tutta la storia dell'umanità l'anima mia glorifica il Signore ecco il creato l'immensità del creato la manifestazione della gloria di Dio prima che gli uomini fossero esulta il mio spirito in Dio il mio salvatore ecco il disegno di Dio nella redenzione nell'elen è la luce della redenzione che si proietta e si proietta nella grande profezia di Dio guardò l'umiltà della sua serva ecco il verbo di Dio ingarnato l'umiliazione del verbo di Dio mi diranno beata tutte le genti ecco la benitudine che dà il verbo di Dio ingarnato a tutta quando la terra decit potenzio mi proghi suo ecco la manifestazione della potenza di Dio nella fortuna nella volutzza dei martiri nella grandezza nella purezza delle vergini nella grandezza delle condemnazioni dei solidari e tutta potenza di Dio dello spirito santo dell'infinito amore che penetra le creature ecco la dispersione di spermi nei pensieri del loro cuore perché la sapienza umana e le cose umane difrende questa sapienza soprannaturale divina e poltiglia e poltiglia e non per nullità e sterco per datemi l'espressione, ma ci sono gli esurienti, gli affamati che desiderano il pane della vita ed ecco Gesù tu l'hai dato il pane della vita a te stesso e l'hai dato in esuberanza, perché? Perché ti sei donato nella Santissima Eucharistia, ti sei donato a noi Gesù, a noi Gesù, alla umanità, e tu sei il sommo bene e li raccogli tutti, i poveri ricchi sono lasciati nella loro miseria estrema che per essi rappresenta una ricchezza a me, una ricchezza di morte, ricchezza di pudredine, ricchezza di rovina, ricchezza di rovina, ricchezza di rovina, noi abbiamo Gesù, te nel cuore e sei la nostra ricchezza, noi abbiamo Gesù, te sulla lingua e sei la nostra ricchezza, noi abbiamo te o Gesù, vita nostra e sei la nostra ricchezza, e chi ti ha donato a noi esurienti in pleviti bonus, chi ha riempito i miei esurienti di beni? Tu Maria, tu Maria, perché tu hai dato Gesù, perché tu ci hai donato Gesù, perché tu ci hai custodito Gesù, perché tu ci hai chiamati a te come figlioli e ci hai rimandati allo stesso petto tuo.